Buonasera, siamo in diretta, sono le 20.30. Chi arriva, per favore, mi comincia a salutare, così capisco che siete in linea. Oh, Rita, buonasera, la prima, Donatella, Sabrina, sono contenta di cominciare a vedervi. Allora, vediamo un po'. Fatemi sapere tutti se mi sentite bene. Oh, state arrivando. Benissimo, mi stavate aspettando. Brunella, Nicole, ciao Vittoria, Roberta, Angela, Stefania. Buonasera, Linda. Allora, dove sei? Mary, buonasera, Giovanni, Feli, Barbara, ciao, Cristina. Ok, piano piano che arrivate, vi do un benvenuto su Bridge. Buonasera, Vera, Loredana, Cristina, Anna Lonni, buonasera, felice di vederti anche per me. Anna Maria, Mirella Greco, Nicole, Veronica, piano Diana. Ciao Diana Ponticelli, Vittoria, ecco, piano piano siete in tantissimi, non faccio più in tempo a salutarvi. A salutarvi, Calogera, ciao, Miriam, Mary Capoani. Bene, ok, l'audio e video, grazie Mary, grazie. Ciao Barbara. Buonasera, Michela, Marilena, Rita, Santina, Patrizia Rotella, Lucia. Ok, piano piano. Oh, ma ditemi anche da dove scrivete, così almeno capisco, no? Entro un po' di più nelle vostre case. Allora, state arrivando tutti. Donatella, ciao, la mia Martinello preferita. Ok, si sente bene. Ok, benissimo. Tiziana, Mina, Paola Pagliari, Marina. Bene. Ok, aspettiamo ancora un minutino, un minutino di orologio. Ciao Marina, Mina Di Stefano, Elena, piano piano. Da Pescara. Oh, chi è da Pescara? Giovanni. Vediamo, si sente. Ciao Laura Montagna. Da Cagliari, scuola base di Novara, ciao. Dal Salento, signora Bergamo, Margherita, Molnar. Ok, Crema, da Torino, da Taranto, Marcella, mia terra, da Foggia. Ok, bene, Vicenza. Allora, carissimi amici, piano piano che ci salutiamo. Ecco, vi do il benvenuto. Sono le 20 e 33. Oh, questa persona, Nicola, vive a Cefalù per lavoro. Beh, parliamo. Pavia, Rita, siamo vicini, eh? Dalla Puglia. Eh, beh, sapete il mio punto debole. Da Milano. Perfetto. Allora. Buonasera a tutti, sono Annalisa Perrino, sarò a disposizione del mondo dello spirito, a vostro favore, a vostra consolazione. Ok, sto togliendo tutto. Beh, benvenuti a tutti su Bridge of Lights. Stasera ci sarà, abbiamo solo un'oretta a disposizione, quindi ci dobbiamo sbrigare. Eh, chissà se tra i presenti, tra gli amici presenti, ciao Monica, tra gli amici presenti c'è qualcuno che non mi ha mai visto, ha avuto il piacere di non avermi mai visto, o c'è qualcuno che non ha mai assistito. assistito, Angelo Negri, assistito a una dimostrazione pubblica di medialità, Desiree, Katia, piano piano, da Vercelli, ok. Eh, due paroline in croce, che cosa accadrà stasera? Bene, allora, chiedo, ehm, fermatevi, siete, sono felicemente invasa dai vostri saluti. Allora, adesso, proprio, ci dedicheremo dieci minuti, devo essere precisa come un orologio svizzero, ok? Edi, non ho mai assistito, bene, adesso ti spiegherò, d'accordo? Goditela. Allora, ehm, benissimo, che carina, la Mirella ha dato il benvenuto alla ragazza della prima volta, che carino. Allora, i primi dieci minuti li dedicherò a rispondere alle vostre domande, d'accordo? Quindi, approfittatevi, approfittatene per favore. Eh, brava Cristina Fantauzzi, mai assistito Cristina, adesso vedrai. Dopo questi dieci minuti, mh, avremo il tempo per, ehm, per questa dimostrazione pubblica di medialità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il medium, che sono io, mi connetto col mondo dello spirito, ok? Ok? Arriverà qualcuno col permesso di Dio, racconterò, descriverò la persona che arriva, così come la persona vuole essere descritta, amici, d'accordo? Mano a mano che arrivano le informazioni, chi riconosce la persona potrà scrivere in chat, d'accordo? Voi siete in 165, io sono una soltanto, quindi non è questo il luogo per dare messaggio a uno, a uno, a uno, ok? Ma serve per dare a tutti le prove che la vita continua. Quello che dico sempre, amici, se viva la mamma di Tizia, sarà vivo il papà di Caio. Se vivo il figlio di Sempronio, sarà vivo anche tuo figlio. Capisci cosa, eh, Katia e Damiani, oh, la mia gara Katia, sta facendo già la, la moderatrice. Allora, chiedo alle mie allieve della scuola di Novara di, ciao Tania, un bacio, di stare tranquille perché come moderatrice stasera ho un angelo custode, che è Katia, benedetta donna Katia, quindi Katia mi aiuterà nella gestione dei messaggi. Bene, allora, carissimi amici, Michele è la prima volta. Dunque, ciao Rita da Taranto, alla mia scuola di Taranto, buonasera a tutti, punto. Per favore, approfittatene, abbiamo ancora 8 minuti a disposizione per rispondere alle vostre domande. Fatemi domande che volete, eh? Urca, ho un problema col computer, mamma mia. Katia, ok, scusatemi, il mio computer sta impazzendo, voi non potete capire cosa, probabilmente c'è molta energia dal mondo dello spirito. Eh, Mirella Greco, oh, due angeli custodi, Katia e Mirella, madonna, aspetta che mi scrivo che ho due angeli custodi stasera e non sono sola. Katia e Mirella. Ok, Katia e Mirella sono i miei angeli custodi. Allora, vediamo un pochino. Angela Fra Giacomo, buonasera cara, anche a te. Coloro che arrivano, penso dal mondo dello spirito, vengono perché sanno che siamo qui stasera ad ascoltare? Voglio dire che vengono solo i cari di coloro che sono in diretta? Sì. Allora, nel 90% Angela, quelli che arrivano stasera, arrivano perché è in diretta qualcuno dei loro cari. Però posso dire ad Angela che abbiamo avuto esperienza anche che magari in diretta c'era, che ne so, l'amica della mamma di questa persona. Quindi, chi era in diretta ha riconosciuto questa persona da mano dello spirito e ha portato un messaggio come un buon postino. Ok? Voglio ringraziare la signora di prima perché si parla di appuntamento sacro. Che cosa vuol dire? Vuol dire, buonasera a tutti, do un bacio a tutti e a 205. Vuol dire che non solo noi stasera abbiamo avuto, ci siamo messi l'appuntamento, no? Qui io sapevo che alle otte e mezza dovevo stare qui. Anche Mono dello Spirito è qui con noi stasera perché ha preso un appuntamento. Quindi sì. Allora, vediamo un po' con un'altra domanda. Serena Gibin, quale può essere il motivo se il nostro caro trapassato non si presenta? Beh, Serena, io posso risponderle secondo quella che è la mia personale esperienza. Per esempio, l'eccesso, Serena, è sempre un difetto. Tipo l'eccesso di dolore, di disperazione. Un giorno ho chiesto, ma l'eccesso, come lo vivete? L'eccesso di dolore, di disperazione nostra, come lo vivete voi? Come il repellente. Hai presente il repellente per topi? Il repellente, l'eccesso di disperazione non permette a loro di arrivare. Ok? Prova a mettere gli auricolari. Ok, io sono con gli auricolari, per potermi sentire bene dovete mettere anche voi. Vediamo un po'. Siete in tantissimi, ho perso un po' di domande. Scusatemi, mentre rispondo. Buonasera, ho perso qualcosina. Se avete qualche domanda, per favore, non si sente tanto la tua voce. Proverò ad alzare il volume. Ok, quando arrivano poi i cari, di solito alzo tanto. Il volume mi sentono anche i vicini di sotto. Allora, spero di... Dunque, il computer sta impazzendo. Vediamo un po'. C'è qualcuno che mi vuole fare un'altra domanda? Approfittiamone, abbiamo ancora sei minuti. Buonasera a tutti, sono le 20.39, siete in 228. Ok. Ciao, Annalisa, Vittoria, sono la mamma del ragazzo dell'incidente e amica di Eugenia. Ciao, Vittoria. Allora, vediamo un po'. Approfittatene, perché poi non è più possibile fare le domande dopo. Eh, mie bellissimi, in diretta. Anna Maria Baroni, i nostri cari sanno dove si trova il loro corpo o la loro cremazione? Mannaggia, l'ho persa la signora, la signora Anna Maria. I nostri cari sanno dove si trova il loro corpo o la loro cremazione? Tu dici, Anna Maria, quando li seppelliscono? Tipo, ho seppellito mio padre, mio padre sa che il corpo sta lì a grottaglie, oppure cremato lì a casa. Eh, sì, lo sanno, lo sanno. Posso dire la mia esperienza? Alla signora, la vado a riprenderla, la vado a riprendere. Anna Maria Baroni, io sono molto legata alla mia cara nonna Giovanna, ve la faccio vedere subito. Aspetta, aspetta, giro il computer. Eccola lì, eccola qua nonna. La vedete la mia cara nonna Giovanna? Boh, è sempre qui con me nonna, in foto. Quando vado a Villa Castelli, provincia di Brindisi, dove nonna è seppellita, io sono del sud, quindi quando vado giù, io vado al cimitero a trovare nonna. È anche un nostro modo per sentire un po' la vicinanza fisica. Io percepisco sempre mia nonna Giovanna vicino alla sua tomba, perché arrivo io, non è che sta attaccata alla tomba. Ma in realtà un giorno ero andata, io mi ero fatta una rocchia di chianto, si dice in meridione, non ti sfoghi, tutti i nostri drammi. Poi me ne stavo andando, beh nonna vado via, ho sentito mia nonna con queste orecchie in chiarudienza che mi dice posso venire con te? Oh mio Dio, c'è che fa? Rimango qua, vengo con te, ok? Spero di aver dato la risposta a Anna Maria. Gabri Ravio, i corsi online, online, di medianità vanno bene o sono migliori quelli di presenza? Signor Gabri Ravio, la mia personale esperienza mi dice che quelli in presenza sono migliori, ma è solo la mia personale esperienza. Mannaggia a me, siete tanti, scusami, ma non la fanasca, scusami, scusami. Mi hanno detto che a volte i defunti non arrivano subito... L'ho persa, l'ho persa, l'ho persa, l'ho persa. L'ho persa, l'ho persa. Niente, ho perso la signora di prima, mi dispiace, ho perso la signora di prima, l'ho persa, scusate. Perché siete in tante... Ciao Monia, siete in tante e quindi scorrono velocemente. Allora... Allora... Oh, Ilaria, io non riesco ad andare al cimitero se non sto male due giorni. È un nostro problema, Ilaria, non un loro. Patrizia, abbiamo ancora quanto? Quattro minuti. Mamma, siete velocissimi. Allora, Patrizia, ritorno da Patrizia. Dove sei, Patrizia? Dove sei? Ok, Patrizia Patti. Perché quando faccio il cerchio di luce con Anna Maria Squerigianni, visualizzo i miei cari tutti vestiti di bianco, tranne mio marito vestito di scuro? Signora Patrizia, io non conosco il cerchio di luce della cara collega Anna Maria Squerigianni, quindi non posso dirle. Non è... non lo conduco io, questa esperienza, quindi non posso dire nulla. Non conosco. Cristina Musolino. Perché non sento più vicino nessuno nell'ultimo periodo? Per due anni avevo dimostrazioni evidenti e enormi. Solo a me e a mio marito e figlio. Adesso nulla, Cristina, è una bellissima cosa. Vuol dire che sta meglio lei. Vede, signora Cristina, quando noi stiamo tanto male, attiriamo, diciamo, la loro iperpresenza, iperprotezione. Appena riusciamo a respirare, a tornare a vivere, loro si rasserenano un po' e lasciano un po' andare lì per presenza. Lei pensi, signora Cristina, potrebbe pensare che è una cosa negativa? No. Mi creda, nel nome di Dio. Vuol dire che sia lei, la sua famiglia, che sia loro, stanno bene, grazie a Dio. Quando c'è troppo, troppo, vuol dire che noi abbiamo ancora bisogno di grande consolazione. Ok? Allora, andiamo avanti. Allora. Rita, grazie. Allora, Rita di donna, quanto abbiamo? Un mamma, due minuti. Ma quando i defunti non vogliono la cremazione, i parenti non rispettano, cosa pensano di noi? Niente, allora il corpo non serve più Rita, ma neanche. Ma neanche. I nostri animali ci vedono e ci sentono e come? Gli animali ci seguono anche, belli miei, sono i nostri piccoli figli pelosi. Come no? Come no? Marina Guida. Anna Lisa, hanno un permesso speciale per venire stasera? Marina, ti puoi dare un bacino sulla guancia? Sì, hanno un permesso speciale. Verissimo di Dio. Vero, vero, vero. Nicoletta, posso sapere cosa è successo a mio figlio che non credeva in nulla? Io avrei voluto vedere la sua espressione, anch'io non credevo questo in nulla e adesso ho scoperto un mondo fantastico, vorrei poter sapere cosa gli è potuto succedere. Sicuramente si è cominciata a godere la meraviglia del mondo dello spirito, Nicoletta. Cosa vuole che le succeda? Noi siamo più grandi persino del nostro stesso pensiero, dei nostri stessi limiti. Embera, io le suggerisco di vedere il film Nosso Lar. Ok, vediamo. Ciao Jenny, mia cara. In un contatto medianico si può chiedere di parlare con una persona specifica? Nel 99,9% no, non comanda il medium che deve arrivare. Arriva chi ha ottenuto il permesso che arrivi. Quando vado a trovare mio marito al cimitero, lui poi in chiaro udienza mi dice, non c'è bisogno, io ti sono sempre accanto. Perfetto, ho confermato le mie parole di prima. Buonasera a tutti. Allora, Stefania, cerco messaggi nel mondo dello spirito, un consiglio, non sento più nulla perché, signora Stefania, non è questa la serata per sventolare messaggi, non sono una cartomante. Io sono una medium spiritualista, stasera darò le prove che la vita continua. Non si smerciano i messaggi, signora Stefania. Il mondo dello spirito necessita di tanta fede, ecco perché non sente più nulla. L'ultima domanda, le ultime due. Donatella, c'è un Elisa, a volte durante il giorno sento un forte formicolio nella scapola sinistra e poi in forte pressione, possono essere loro? No, il mondo dello spirito non fa mai male al corpo. Il film, al di là dei sogni, rappresenta il posto dove vivono? L'ho visto. Mi pare proprio di no. C'è troppo casino in quel sogno, troppi colori, buio. Io suggerisco il film non solare. Vediamo. Grazie, Barbara. Allora, l'ultimo. Allora, scusami, Gabriella, Cavaliere, ma mi piacerebbe capire perché non sogno i miei cari mancati ormai da decenni e neppure a sognarli. Non sogno, neppure a sognarli. Gabriella, non lo so, non si va mica a comando. Non possiamo mica pretendere che loro sono a nostra disposizione quando schiacchiamo le dita. Mi chieda, signora Gabriella, se io sogno i miei cari. Me lo chieda? No. Quindi non si va a comando. A volte bisogna avere fiducia che la vita continua indipendentemente anche dai sogni. Allora, vediamo un po' l'ultimo messaggino. Allora, urca la miseria. Dunque, Donatella, mamma mia, l'ho persa. Che cosa bella hai detto sui nostri amici Pelosetti. Sì, io li consiglio ai figli, figlioletti Pelosi. Ok, stop. Basta così, amici. Basta così. Fine. Non abbiamo più tempo. Chiedo a Katia e a Mirella adesso di aiutarmi nella gestione delle chat. Allora, carissimi amici, adesso ci fermiamo tutti a scrivere. Ok, vi chiedo di fermarvi. Chiedo a Katia e a Mirella un aiuto, ai miei angeli custodi di stasera. Le moderatrici. Basta, non scrivete più. Perché io poi succede che leggo e... Sì, Lorena, Lorena, mamma era malata di demenza semile. Ora sa lucida di là? Sì, sì. Lo dico alla Lorena, lo dico a tutti perché abbiamo avuto le prove che la demenza, la pazia, cioè tutto ciò che riguarda la testa, riguarda il corpo, nel mondo dello spirito, si è liberi dalla malattia, ritornano estremamente lucidi. Ok, e con questo chiuso. Per favore, sono le 20.48, siete in 300 in linea, quindi siete in tanti, e quindi è difficile gestirvi tutti, fermatevi. Vi prego, nel nome di Dio, non scrivete più. Stop. Ok? Rispondo per l'ultima volta. Io non dispenso messaggi privati. Non sono una cartomante. Non uso oggettistica per dare messaggio a tutti. Il mio compito è quello di dare le prove che la vita continua. Se tu sei qui stasera, sei qui perché hai le prove che la vita continua. Il morto parla, si sgola. È chiaro? Quindi ve lo dico chiaramente. Se è viva la mamma di uno di voi, è viva anche la tua. Questa è l'apertura dell'anima. Questa è l'apertura del cuore. Spero che vi sia chiaro, perché altrimenti succede che non vi godete il bello, il bello, il bello dello spirito. Stop. Vi chiedo di non scrivere più. Adesso noi pregheremo, perché solo Dio Padre concede il permesso, affinché chi è necessario e che arrivi, arrivi. Non scrivete più, per favore. Se arriva qualcuno dal mondo dello spirito, il medium non comanda chi deve arrivare. Io sono solo un portavoce, l'ultima ruota del carro. Se arriva qualcuno dal mondo dello spirito, io vi descrivo la persona. Se vuole, mi dice come la devo descrivere. Io non mi posso inventare i dettagli. Ok? È chiaro? Quindi, voi cercherete di capire chi è. Non è detto che vengano solo i cari. Possono venire i cari, gli amici, i conoscenti, i parenti, i vicini di casa, la maestra delle scuole elementari. Una volta è venuto il biciclettaio del nonno, quando la persona che era in linea portava la bicicletta a giustare. Quindi può venire chiunque. È chiaro? Chiunque. Se già tu stai cominciando a capire chi è, allora e solo allora scriverai, ma senza dare le prove al medium. Permettetemi di operare a vostro favore. Permettetemi di darvi le prove, che questi si sgolano. È chiaro? Allora tu scriverai, sì, forse è per me. Punto. Non dovete dare, ecco, è mio padre che si chiama Tizio e Caio. No, sono io che vi dico le cose. Quindi, chi comincia a capire qualcosa, scriva, forse è per me. Punto. Io ho una penna, mi scriverò i nomi vostri, in modo che non vi perdo per strada. Chiaro? Il patto, chi mi conosce lo sa, per favore non scrivete più. Grazie. Il patto è questo. Una volta riconosciuta la persona, do il messaggio al diretto interessato, virgola, poi chiedo alla persona che arriva il messaggio per tutti in diretta. Chiaro? Stop. Adesso iniziamo. Sono le 20.52, siete 321 in diretta. Basta ragazzi. Iniziamo. Preghiamo, per favore. vi conduco alla preghiera. Ricordatevi l'umiltà di chiedere a Dio sempre il permesso, non la pretesa, ma il permesso. grazie padre per questo incontro di questa sera. Concedi permesso ai loro cari, agli amici, ai parenti, ai conoscenti, a quanti hanno amato e incontrato tutti gli amici in diretta su Briggio di stasera. concedi loro il permesso di venire qui e a me e a tutti gli amici in diretta. Aiutaci padre ad alzare i nostri cuori fino a te perché ci sia in te un incontro di luce. San Michele Arcangelo, benedici la mia casa, benedici la casa di tutti gli amici in diretta. Ti prego Michele, benedici questi contatti, per favore. Grazie. Alla mia cara nonna Giovanna, come sempre, chiedo di fungere da filtro nella comunicazione, perché vengano solo, nella luce di Dio, quanti hanno amato e incontrato tutti gli amici in diretta. grazie nonna. Madre Maria prega per noi. Alle mie care guide, accompagnatemi voi miei cari, come sempre. Amen. Ok. Bene ragazzi, forza. Basta così amici, pronti? Via. Si presenta qui un uomo del mondo dello spirito. So per certo che questo signore non è, non è, è molto vivace, molto serio, non è morto anziano, assolutamente no. È mancato di mezza età. Quindi per me, per me analisa, la mezza età è tra i 40 e i 50, non di più. La cosa particolare è che questo signore si presenta vestito da, di Allah, come devo dire? Indivisa. Ok. Vestito indivisa, indivisa. Per favore ragazzi, non scrivete che io mi distrago, per piacere, fatemi in atto di bene, per favore. È vestito indivisa e so che ha una divisa scura, una divisa militare, militare, militare. quindi ha un cappello blu, militare, sembra, potrei dire un carabiniere, un poliziotto, mi sembra una cosa del genere, quindi ha il berretto da militare, io lo vedo di mezzo busto, e quindi ha la divisa scura, ha una cravatta, ha... che cosa sono queste? Le stelline, ha delle stelline, quindi so che era impettito, so che era impettito questo signore, questo uomo serio, uomo serio, quindi era riconosciuto a livello dell'arma, che rappresentava... ok, ha tirato giù il berretto e ho visto che sopra il berretto, qui, c'è uno stemma, di una... che... ve lo fai vedere, per favore? Una fiamma, una fiamma, uno stemma di una fiamma, qui, carabiniere, sì, potrebbe essere un carabiniere, uno stemma di una fiamma, d'accordo? Quindi so per certo che questo signore era nell'arma, nell'arma, e la divisa era sul blu, no? Sul nero, sul blu scuro, e aveva le stelline, quindi era uno che aveva guadagnato la stima, la stima dell'arma per la sua vita, d'accordo? Quindi, ok, Roberta, mio papà, Roberta, per favore, non mi dire altro, ok? Ma no, ha perso Roberta, signora, aiutami, 42 anni, marescialo, finanza, rimanga con me, signora Roberta, vado avanti, io so per certo, mamma, mi è emozionato, voi non potete capire, vado avanti, finanza, marescialo, perfetto, rimanete con me, Roberta, me lo scrivo, Roberta Garegnani, Roberta Garegnani, non si sa mai che mi dimentico, madonna Katia, io ti lovo a 3.000, ok, prego, so per, vi ripeto, che questo signore, che questo signore, non è arrivato ai 50, non è arrivato ai 50, sì, fiamme gialle, ok, rimanga con me, signora Roberta, vediamo se c'è qualcun altro in linea, che li conosce, ma, posso dire che mi fa, allora, è molto emozionato, gli manca l'aria, credo che sia la prima volta, che questo signore riesce a parlare con una media, allora, vediamo, raccontiamo, raccontiamo, rilassati, ok, posso dire che questo signore, alla mia frase, rilassati, egli, via testuale, risposto, e io non mi rilassavo mai, cioè, le prendeva le cose, lui le prendeva tanto seriamente, Rosa, marito di 41 anni, aeronautica, no, mi ha detto di no, mamma mia, non si vuole, è molto secco, è molto preciso, aeronautica, no, mi ha detto, macchia, macchia, è molto attaccato al suo ordine di militare, vado avanti ragazze, prendeva tutto sul serio questo signore, racconto un pochino amici, prendeva le cose molto sul serio, non si rilassava mai, fammi vedere, anche quando, dice, anche quando lui era a casa sua, che tra l'altro ha una casa molto bella, mi sta raccontando, una casa con lo spazio, con lo spazio verde, vediamo, anche quando era a casa si rilassava poco, c'ho l'ansia, mi fa venire l'ansia, ok, vediamo come è morto, così andiamo a colpo secco, d'accordo, serissimo, per ciò che ricordo, benissimo, Roberta, rimanga con me, signora Roberta, mi stai mancando l'aria, devi calmarti un po', per favore, calmati un po', mi ha detto che sono molto emozionato, una cosa incredibile, allora, come sei mancato, possiamo scrivere, che cosa è? Allora, pare che questo signore dell'arma, dell'arma, mi dice che è mancato rapidamente, rapidamente ragazze, ragazzi, cioè non è morto di malattia, madonna Mirella, grazie, non è morto di una malattia di lungo, di allettamenti, no, no, non è questo, mi dice sono morto rapidamente, oh signor, mi manca l'aria nel petto, ok, che cosa è successo? ok, mi fa segno del petto, mi manca l'aria, c'è stato uno spavento, sento dolore al petto, ok ragazze, guardatemi un attimo, qui del petto, non respiro, qui sul petto, qui sul petto ragazze, noi abbiamo normalmente i polmoni e il cuore, quindi due sono le cose, cioè non ce n'è altro, che strano, che strano, no, mi dice che è successo qualcosa di tanto rapido, di tanto rapido ragazze e ragazzi, tanto, tanto rapido, no, non era in polizia, mi ha detto di no, no, mi dice, mi dice fare, la fiamma sul, sul berretto, la fiamma sul berretto, rimanete con me ragazzi, rimanete con me, fatemi parlare, fatemi parlare, oh, allora, sono morto rapidamente, rapidamente, per favore, mi scrivano solo, coloro, che riconoscono, non mi date, vi prego, non mi date suggerimenti, mi scrive, ve lo chiedo nel nome di Dio, scrivete solo, chi riconosce, non fate domande, fate in modo, che sia lui, a darle, ok, oh, signor, infarto fulminante, si, oh, che dolore al petto, scusatemi, per due secondi, ho dolore fisico, basta, per favore, madre, mamma mia, mi sento dolore al petto, voi non potete capire, quindi so per certo, che è un dolore, proprio fulmineo, Roberta, infarto fulminante, lo zio di mio marito nei carabinieri, morto con un colpo di pistola, no, no, verde intorno a casa, sì, diciamo che, quando ho parlato di Roberta Garegnani, ho avuto una profonda, una profonda emozione, una profonda emozione, quindi mi sento portata a Roberta Garegnani, per favore Roberta, ascoltami un attimo, ascoltami un attimo, Cinzia, è morto in un incidente stradale, no, mamma mia signore, vi prego, aprite le orecchie, aprite le orecchie, allora, descrivo un po' il carabinieri, no, è morto, istantaneamente, dolore cardiaco, al petto, ho sentito dolore al petto, e so per certo, che è stato uno shock pazzesco, perché nessuno, era rimalato, ma per niente, non era assolutamente malato, e so che era nell'arma, e so che, il berretto aveva sta fiamma, ed era molto fiero, della sua, della, della sua ordine, come ti devo dire, come vi devo dire, e vi ripeto una cosa, togliendo il cappello, so che aveva i capelli corti, erano ben curati, erano scuri, carnagione chiara, ma adesso vi racconto anche, il carattere, era una persona, che non si rilassava mai, anche in casa, quando era a casa, diciamo, le prendeva le cose, tutto molto seriamente, e vi posso anche aggiungere, che la sua casa, era vicino al verde, perché vi piaceva un sacchissimo, un sacchissimo, la sua casa, oh, santo Dio, il petto mi fa male, sanissimo, sì Roberta, rottura del cuore, rottura, rottura, no, 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 non è rottura, mi parla proprio di infarto, non c'è stato una, una sindrome di scoppio del cuore, no, mi parla di infarto fulminante, sanissimo, confermo, Roberta, scusatemi amici, scusatemi, ma io mi sento portata verso Roberta, perché quando nomino il nome Roberta, questo mi manda l'ansia da gioia, mi sento, do un altro dettaglio, ok, ogni volta che usciva di casa, a parte avere sempre in ordine il suo abbigliament, sì, immerso nella burghiera, no Stefania, no, chiudiamo con Stefania, no, grazie, sono con Roberta, ogni volta che usciva di casa, poteva dimenticare tutto, forché il suo orologio, che toglieva, quando entrava in casa, toglieva l'orologio, metteva le chiavi, ogni volta che usciva, era un menage, riprendi l'orologio, e rimetto le chiavi, cioè, le lasciava all'ingresso di casa, era proprio un'abitudine, questa cosa qui, eh, quindi, l'orologio lo tolgo, l'orologio lo metto, quindi, questa era una sua abitudine, posso dire che un uomo, è stato un uomo di compagnia, Roberta, rimanga con me, per favore, è stato un uomo comunque di compagnia, molto stimato, mizzica, molto stimato, ragazzi, molto, molto, un uomo, molto stimato, al suo funerale, voi dove, non potete capire, che cosa è successo, sono arrivati anche i suoi capi, che non si sposterebbero mai, i capi, per andare, no, a un funerale di un commilitone, però sono venuti i capi, i suoi capi, e a dare onore, a dare onore, quindi sento, sento che è stato uno shock, lì dove, nell'arma, nel circondario, quindi nel suo funerale, è stato un funerale molto, si amava gli orologi, lo so anche che, oh, lo so, anche se non ricordo l'abitudine, io dico, Roberta, come dire, urca, verifichi, allora, per favore, aiutatemi con questa persona, che mi sta dando fastidio, grazie, la signora Stefania Ratto, quindi, per favore, aiutatemi, perché mi sta togliendo, l'attenzione, grazie mille, signora Stefania, perché non lascia il gruppo, e in grazia di Dio, mi fa lavorare, per dare consolazione, questo defunto, che vuole parlare, grazie mille, ok, Roberta Garegnani, no, base americana, no, ok, quella signora, mi ha disturbato, quella signora, mi ha disturbato, ecco perché, vi chiedo nel nome di Gesù, di non scrivere, di non scrivere, grazie, queste sono le cose, che mi disturbano, quando la gente, non è attento al defunto, e alle prove di evidenza, allora, ritorniamo su questo signore, Roberta, io mi sento protesa, Roberta, è inutile, tantissima gente al funerale, sì, un'altra cosa, che voglio dire, questo signore, non è morto da poco, grazie Mirella, posso dire, scusatemi, mi sono distratta, quella signora, mi ha veramente distratto, posso dire, che questo signore, non è mancato da poco, persino la barra, portata a spalle dai colleghi, ok, non è mancato da poco, è passato del tempo, quindi non è una morte recentissima, Urca, ok, Mirella, Roberta, io mi sento verso Roberta, perché se cambio nome, lui mi dice, no, 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 in continuazione, allora, Roberta, domanda, riconosci tutti i dettagli, di questo signore? Roberta, mi confermi, io mi sento a Roberta, è inutile che mi giro, e mi sento che lui mi porta lì, ok, tanti anni, ok, riconosci tutto, Roberta Garegnani? Se nomino questo nome, c'è emozione da questo signore, ma tanta, sì, tutto, perfetto, oh, signor, ottimo, io rimango su Roberta, Roberta, confermi che, questo signore, l'identità di questo signore, chi è questo signore per te, Roberta, perché è emozionato, cioè tu non puoi capire l'emozione, è molto emozionato, confermi, chi è questo signore per te? Sento il paternage, sento la paternità, il legame di carne, non sento le strane età, Roberta, per favore, mi puoi confermare l'identità di questo signore? Io sento che è molto paterno, ok, Roberta, mi devi dire chi è questo signore per te? Ok, infatti, sentivo, sentivo che era molto paterno, quindi, Roberta, fermati per favore, non scrivete più, per piacere, devo dare il messaggio a Roberta, da parte di questo signore, molto emozionato, e come, grazie, Katia, Damiani, sono stata fortemente disturbata, allora, un messaggio per Roberta, e poi chiederò al papà, di Roberta, di dare un messaggio a tutti i presenti, signor papà, prego, finalmente, ma guarda, ma guarda, Roberta, le darò del tu, senza mancarle di rispetto in questo momento, d'accordo? Mi dice, finalmente, finalmente, non so da quanto tempo, avrebbe voluto palesarsi, questo signore nei tuoi confronti, Roberta, questo padre, perché mi dice, finalmente, ho tirato, e tiro, un sospiro di sollievo, che meraviglia, mi dice, che meraviglia, poi mi dice, che meraviglia che sei, che meraviglia che sei diventata, ma guardati, ma come sei bella, ma guardati, ma che meraviglia, continua così, Roberta, cioè, tu non puoi capire, perché non ci guarda come è diventata, ma dai, ma guardala, ma io non so chi sia tua figlia, ma io sì, mi dice, guarda come è bella, guarda come è cresciuta, guarda come è diventata, guarda come è diventata forte, io l'ho seguita, tappa dopo tappa, Roberta, credo che riguardi le varie tappe, della tua vita, ho seguito tappa dopo tappa, mi dice, la tua esistenza, e dice che tu l'hai sempre invitato, ad ogni tappa che hai raggiunto nella tua vita, tappa emotiva, tappa di studio, tappa professionale, glielo ho detto, glielo sto indicando, la tappa della casa, mi dice, la tappa della casa, ora non so Roberta, se hai una nuova casa, o se sei andata in una casa diversa, non ti so spiegare, mi dice, io ci sono sempre stato, ho visto, ho visto tutto, ma perché mi dici così? Perché dici che, dice che, io non sono mica cieco, mi dice, io non sono mica cieco, diglielo, glielo, dice, diglielo più forte, Roberta, tuo padre non è cieco, mi dice, io non sono mica cieco, ho visto tutto, ma continua, allora, voglio farvi la scena, la vedo, la vedo signore, la vedo, mi incute rispetto, quindi sento, devo dargli del lei, quindi mi incute rispetto, questo signore, mi fa questo segno, guardate, guardami Roberta, è così, come un padre che sta così, ma guarda, guardala come è diventata, guardala, capisci Roberta cosa mi sta dicendo? Babbiato, si dice, incantato per te, madonna mia santa, è una dichiarazione d'amore, che avrei potuto fare, che avrei potuto fare, credo che questo signore Roberta, non fosse avvezzo, diciamo, essendo un uomo serio, non fosse avvezzo, alle, come dire, frivolezze affettive, no, che ne so, le smancerie, per cui, dice che era da tanto, che ti voleva, e poi un'altra cosa, Roberta, mi parla delle tue mani, mi dice che hai delle mani, coi calli, che cosa strana, come se tu, non avessi le mani da lavoratore, da grande lavoratrice, in questo caso sei Roberta, donna, da grande lavoratrice, e quindi, sì, mi ha lasciato che avevo 14 anni, ok, perché mi dice, le tue mani, le tue mani, sono degne di stima, perché per lui, una persona degna di stima, era la persona, infatti, poche smancerie, era una persona che, lavora, lavora duro, dice che tu sei così, tutto quello che hai fatto, l'hai fatto, con le tue mani, quanto devi essere fiera di te, punto esclamativo, punto interrogativo, almeno, quanto lo sono io, chiaro Roberta, cioè, io, potessi dare un titolo, ah sì, lo scrivo, aspetta che lo sto scrivendo, il titolo, di questo messaggio, per Roberta, Roberta, guarda, sono fiero di te, io vorrei, spedisciglielo, ti prego Roberta, fai uno screenshot, sono fiero di te, ok, poca roba, cioè, è così, ha detto che ha tirato, un sospiro di sollievo, finalmente, ho parlato, madonna santa Roberta, spero che questo messaggio, ti giunga nell'anima, perché a me, mi ha trapassato, questa fierezza di te, mi ha trapassato l'anima, spero che ti trapassi, anche a te, questa fierezza di tuo padre, ora, chiedo, chiedo in prestito, il papà di Roberta, per un messaggio a tutti, siete in 354, in diretta, ora aprite le orecchie, amici, perché il papà di Roberta, parlerà per tutti, ah, signor papà, sentite amici, mi parla della fierezza, mi parla della fierezza, dice, non c'è miglior modo, di addormentarsi la sera, con la fierezza, con l'essere fieri di se stessi, non c'è miglior modo, non c'è miglior modo, di svegliarsi al mattino, al mattino, con la fierezza di se stessi, questa, la essere fieri, cosa vuol dire per te essere fiero? che meraviglia ragazzi, mo' ve lo dico, essere fiero di sé, vuol dire, niente vergogna, del proprio essere, niente rossore, mi dice, niente vergogna di sé, questa è la fierezza, non c'è modo migliore, per addormentarsi, non c'è modo migliore, per svegliarsi, se non quello di essere fiero di sé, di te stesso, ed è questo il suo messaggio, perché era un uomo pieno della fierezza, della stima di se stesso, dell'uomo onesto, corretto che è sempre stato, sia questo il mio augurio per ciascuno di voi. Manta miseria, Marcia, me l'ha detto con fuoga. Bene, ringrazio il papà di Roberta Garegnani, lo ringrazio, Roberta prendi questo amore, amici prendete tutti questo amore, questo messaggio. Bene, andiamo avanti, abbiamo ancora pochi minuti, ci dobbiamo sbrigare. si presenta qui un ragazzo, dal mondo dello spirito, amici ascoltatemi, dobbiamo essere proprio veloci, veloci, velocini, perché abbiamo il tempo che stringe. Dai ragazzo, veloce, si presenta qui un ragazzo, dal mondo dello spirito, so per certo che questo, oh, parliamone, questo ragazzo, tenevo un amore sviscerale, per le moto, le moto, e le moto, dovevano essere, no, le moto da corsa, non le moto gentili, tipo le Harley, dice lui, no, 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 è un ragazzo che ha una passione, ma una passione potente per le moto, tant'è che lui, per esempio, dice che aveva una moto, una sola, figure, non ha avuto una moto solo, questo ragazzo, ok ragazzi, non scrivete più, stiamo cambiando messa, stiamo cambiando persona, grazie, grazie a tutti, basta, fermiamoci là, allora, le moto, ah sì, ciao, ciao Bruna, allora, le moto, questo ragazzo, le sue moto, che ha avuto nel corso della sua vita, fin da quando era ragazzino, ragazzino, ci metteva lui le mani, quindi sento, quindi sono tutti gli attrezzi per sistemare il motore, e aggiusta il freno, e cambia la marmitta, e metti la marmitta del motorino, quando era ragazzino, il motorino, togli il silenzioso dalla marmitta, perché la marmitta doveva fare rumore, quando era giovane ha avuto un motorino mezzo scassato, quando era ragazzino adolescente, un motorino mezzo scassato, che faceva un casino enorme, mi dorme quando andava, che cos'era? Un ciao, un fitti, non riesco a capire bene, ok, poi questo ragazzo, niente, si è dato la sua vera passione, che era quella delle moto, erano le moto da corsa, cioè quelle lì, tipo le Kawasaki, le Ninja, avete presenti? Ok, Nicoletta rimani con me, andiamo avanti, fatemi spiegare, oh là, sì, glielo dico, rimanete con me, Nicoletta e Palmira, tranquilli, datemi il tempo di dire, che cosa è successo a questo giovanotto, va bene, datemi un attimo di tempo, un minuto solo, allora, dimmi, ok, l'ho visto, ok, questo ragazzo è morto, a 30 anni non ci è arrivato, ascoltate, miei amici, a 30 anni non ci è arrivato, quindi so per certo che è stato, è stata una morte prematura, so per certo che questo ragazzo, è morto di incidente, perché ho visto lo schianto, amici, non ce n'è, ho visto lo schianto, infatti ho dovuto mettere le mani qui, perché ho, forte, ho visto uno schianto, eh, eh, sì, e non è, eh, e non è morto di incidente in macchina, ma è morto di incidente in moto, niente, io non cambio, mi sono spaventata, quindi so per certo che è morto di incidente in moto, perché lo vedo, che con la moto ha sbandato, ha sbandato, quindi non è che è andato contro una macchina, ha sbandato, ma perché vedo, tra, sbanda, salta, orca, e ha, guardatemi amici, mi dovete guardare adesso, mi dovete guardare, ha battuto qui, qui, e ho sentito, che l'osso del collo, ha fatto, crack, nonostante il casco, nonostante tutto, è chiaro? era un ragazzo molto attento, perché lo vedo, ha con abbigliamento adeguato, avete presente i motociclisti che hanno quell'abbigliamento adeguato? Ehi, qui ha battuto amici, nel, no, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, ed è morto sul colpo, ok, stop, mi fermo un attimo, qualcuno sta scrivendo, vediamo, per favore, mi, mi scrivete, ok, Palmira dice di no, ok, il ragazzo di mia figlia, Silvia, eh, anche il mio amavo le moto, allora, per piacere, ora è importantissimo, è importantissimo, che mi, che mi scrivi, mi scrivete, ok, Simona, benvenuti, Simona, e di, allora, Dina dice, potrebbe essere mio cugino, Allora, amici, un attimo, mi sto perdendo, Simona, mio figlio è morto, così, aveva la sua officina, il, sto arrivando, sto arrivando, datemi, il mio compagno di classe, purtroppo, tanti anni fa, una cosa, no, una cosa, una cosa che vi devo dire, scusatemi, che non l'ho detta prima, non è tanti anni, non è tanti anni, non è tanti anni, mi fa, non è tanti anni, un incidente solo sullo stradone, non c'era nessuno, non vedo uno stradone grossissimo, però adesso, Tina, Tina, rimani con me, per favore, Fabrizio, Francesco, mio amico sbandato, con Kawasaki Ninja, sbandato? No, questo ragazzo era fortemente maturo, non era sbandato, era proprio maturissimo, serio, cresciuto, con serietà, allora, potrebbe essere un amico di Salvatore, mio amico è morto in incidente, in moto, in pista, no, mi dispiace Danila, no, non era una pista, non ha perso il casco, no, con la Kawasaki, non aveva trent'anni, un ragazzone, mio figlio è ventidue, mannaggia, l'ho persa, Nicoletta, mio figlio è ventidue, con una Kawasaki, allora, non so, Nicoletta, 15, analizza, c'è mica il mio papà? Mannaggia, signora, ma non sta capendo proprio la serata, questa donna, aveva con sé un altro ragazzo, sbandato con la moto, allora, fermi a tutti, fermi a tutti, vi do qualche informazione, ok, siete in tanti, ok, minuto, un minuto, boh, andiamo a colpo secco, andiamo a colpo secco, mi ha detto il ragazzo che in linea c'è la madre, punto, me l'ha detto, mia madre è qui, e non ci giro intorno, mia madre è qui, per cui ragazzi, ho chiesto al ragazzo aiutami, ti prego, aiutami, mia madre è qui, Antonello, un amico del mio compagno, no, scusatemi ragazzi, mi dovete sentire che abbiamo poco 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 tempo, pochi, devo andare a colpo secco, la mamma è qui, vi prego, nel nome di Dio, c'è una mamma, c'è una mamma, per favore, che è qui, che ha il figlio, io voglio una mamma, una mamma, mia madre è qui, glielo sto dicendo, piccolo, giovane qua ragazzo, sto ragazzo era molto abile nel mettere a moto, mi dice a moto le moto, cioè era molto abile nell'aggiustarle queste moto, perché aveva la sua attrezzatura, ve lo ripeto, se avete ascoltato bene, io vi ho detto, iiii, papapapa, iiii, quindi aveva la sua strumentazione, le moto, le moto, lui le aggiustava fin da piccolo, fin da piccolo, quanto anno hai ragazzo, quanti anni, io l'ho detto, non ci è arrivato a 30, mi dovete ascoltare, Nicoletta Ciriello, ok Nicoletta rimani con me, ti prego, ora lo descrivo fisicamente, ora lo descrivo fisicamente, fermatevi, un ragazzo abbastanza alto, snello, Nicoletta Ciriello, lo so, e sì, mi sento, il mio Nico aveva in officina, purtroppo si è rotto l'osso dei colli, aveva tutta la sua tristudia, ma da meccanico, allora aspetta, dunque, abbiamo due mamme, Rosa, non vi è grazie, ok, Simona, un minuto, Simona, benvenuti, un minuto che adesso lo chiedo, benvenuti, e l'altro la signora di prima, io, 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 Nicoletta, Nicoletta, Ciriello, ok, allora ragazze, signore, ascoltatemi, ascoltatemi un attimino, per piacere, un minuto, ragazzo abbastanza alto, snello, capelli scuri, un po' di barbetta, quanto è buonetto, non se la faceva tutti i giorni, fumava, sento che fumava, non in modo accanito, ma ogni tanto fumava, perché sento, sento l'odore di sigaretta, sento due sigaretta, so che era abilissimo, ve lo ripeto per la tremilesima volta, era abilissimo nel mettere a posto le cose meccaniche della moto, e fin da piccolo ha avuto i suoi motorini, come vi devo dire amici, capito, ha fatto un incidente in una moto, una moto tipo ho detto, tipo, non ho detto che è, tipo Kawasaki, d'accordo, quando è morto, quando è saltato fuori dalla moto, ha battuto l'osso del collo, qui ve l'ho detto, è chiaro? Quindi, questo è successo, aveva la sua strumentazione per aggiustare le cose, oh santo Dio, è molto, 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 perché non dicono mai proprio nome, ecco è arrivata la signora Rina, magari signora Rina, se lo dicono, io lo riferisco, so per certo che qui c'è mia madre, mi ha detto, mia madre, hola, so che questo ragazzo aveva la mini moto da piccolo, e aveva KTM l'anno scorso, non so che cosa vuol dire, Simona Benvenuti, Nicoletta Ciriello, Simona Benvenuti, mi dovete dirgli, tutto deve combaciare, anche fisicamente, la causa di morte, l'età, Simona dice che fumava, ok, sì, fumava questo ragazzo, Nicoletta, Pasquale aveva i capelli mogano, ma le aggiustava con suo amico, nel garage dell'amico, non lo so, anche mio figlio ha avuto incidente in moto, signora Francesca, tutto, non è l'incidente in moto, il dettaglio, tutto, altro, 17 anni, allora, 17 anni, c'è qualcosa che non va, io so per certo che questo ragazzo, non è arrivato ai 30, però se la signora mi dice che aveva 17 anni, quando è morto, per me è troppo presto, non è un ragazzino, è un giovanotto, non è un ragazzino, è un giovane uomo, no, 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 non è così, non è così, abbiamo solo due minuti, e io poi devo chiudere per forza, e non posso concludere, quindi, signora Nicoletta, l'età di Pasquale, l'età di Pasquale, corrisponde, non ha 17 anni, l'età di Pasquale, signora Nicoletta, corrisponde, corrisponde, cioè a quello che ho detto io, ti prego, abbiamo solo due minuti, sto ragazzo, non c'ha l'ansia, eppure io, 22 fumava, ok, mio figlio 24, meridionale o settenzionale, Nicoletta dice sì, però c'è anche la signora Francesca, io ho solo due minuti ragazzo, non posso fare nient'altro, posso dire che purtroppo non abbiamo più tempo, non so come gestirla questa cosa, con Katia, Mirella, ditemi che cosa devo fare, perché non so che cosa fare, non so che cosa fare, abbiamo tre persone che due, Nicoletta ha confermato anche l'età, e la signora Francesca ha confermato anche l'età, io devo chiudere, però non so come fare, ok, ha una sorella, ha una sorella, ha una sorella, ha una sorella, Katia ha scritto che ti puoi fermare un po' di più, ah sì, ha una sorella, Katia mi dici quanto tempo ancora, a me mi bastano cinque minuti, ok, vi prego, mi sta dicendo che ho una sorella, ho una sorella, ho una sorella, lo sto dicendo, lo sto dicendo, lo sto dicendo, oh, fatemi capire, mamme, Katia, mi dai ancora cinque minuti? Puoi rimanere finché troviamo questa mamma? D'accordo Mirella, d'accordo, dobbiamo trovare la mamma, ha una sorella, ha una sorella, per favore, non è figlio unico questo ragazzo qui, non è figlio unico, vi prego mamme, vi prego, vi prego, due, due, sono altre due a casa, io però so che ha un rapporto speciale, no, mio figlio era figlio unico, no, infatti mi ha detto, non sono figlio unico, e so per certo che aveva un rapporto speciale, grazie Mirella, un rapporto speciale con una sorella, io ho un rapporto speciale con una sorella, in modo particolare, con una sorella, con una sorella, Nicoletta, mi puoi confermare che il tuo ragazzo aveva un rapporto speciale con una sorella? Come si dice? Di confidenza, di confidenza con una sorella, grazie Katia, sì, ok, darò l'ultima prova perché mi sento emozionata, Nicoletta ti supplico nel nome di Dio, resta con me, dice che, vabbè, dice che era vanitoso, Nicoletta, nel senso perché mi ha detto, io ero molto bello, ho detto, eh signor, no, 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 io ero molto bello, e dice che ha preso gli occhi di sua madre, ha preso gli occhi di sua madre, forse è la più piccola, ha preso, sì, ha un rapporto bello, ha preso gli occhi di sua madre, ciao, ha preso gli occhi di sua madre, quindi credo che mi dice che ha preso gli occhi di sua madre, ci avrà un senso sta roba, si sta sgolando, voi non potete capire, si sta sgolando, oh, santo Dio, Nicoletta, dammi un segno, ti prego, dammi un segno di vita. Nicoletta resta con me, ti prego, resta con me, io mi chiedo scusa a tutti il resto delle mamme in diretta, però mi sento verso Nicoletta, mi dice che, lui dice che somiglia a me, sì, è vero, corretto, correttissimo, correttissimo, Nicoletta, l'ultimo dettaglio, sei tu, perché lui mi sta, me lo sta il colore, sì, perfetto, Nicoletta, resta lì, il computer è impazzito, ragazzo calmati, è talmente emozionato che mi sta facendo impartire tutti i programmi, digli dei pantaloni, ok, quali pantaloni? Diglielo, ok, senti Nicoletta, mi dice che ogni volta era un gran casino smacchiare i suoi pantaloni, smacchiare, quindi tu sudavi sette camicie per togliere quelle benedette macchie, che potevano essere di grasso, di terra, di qualche cosa, dai suoi pantaloni, ma sempre quelli poi metteva, erano dei jeans molto comodi, che gli andavano persino larghi, ma sempre quelli li metteva quando doveva fare i suoi lavori, Nicoletta, ha un senso per te quello che sto dicendo? lui lavorava a McDonald's, Nicoletta, le macchie, le macchie, mi parla delle macchie da smacchiare, e quindi che si faceva fatica a togliere queste macchie, di unto, si faceva fatica a togliere le macchie, ha un senso per te? cioè facevi tu fatica, pantaloni neri divisa in McDonald's, erano le macchie, pulire le sue cose era una impresa, farle venire belle pulite e profumate, e dice che eri molto brava nel fare questo benedetto bucato, perché se lo faceva lui, mi ha detto figurati io, ha un senso per te Nicoletta? Infatti c'era il grasso, perfetto, lo so, lo so, lo so, perché dice che eri brava, eri brava nel far venire il suo bucato pulito, ok, Nicoletta resta con me, anche le scarpe, eh lo so, sta confermando che eri brava nel pulire le sue cose sporche, ok, Nicoletta mi sento portata a te, ti prego resta con me, adesso darò un messaggio a Nicoletta, uh, vabbè, voi non potete capire, voi non potete capire, io sono bordeaux, perché mi fa sudare, allora, Nicoletta resta con me, messaggio per la tua mamma, davvero? Glielo chiedo, Nicoletta, dove sei Nicoletta? Eccola, Nicoletta, mi dice, mi dice che tu, senti ancora, il suo profumo, e non sto parlando dell'odore di grasso da McDonald's, no, mi sente ancora il mio profumo, mi sta dicendo di dirti Nicoletta, ehm, aspetta, aspetta, ok, minuto Nicoletta, senti Nicoletta, dice che, nonostante, lo so, glielo dico, dice che sei una mamma forte, non so che mo ti sto dicendo una frase fatta, ma io ho l'obbligo morale di dirtela questa cosa, dice che tu sei una mamma forte, sei una mamma forte, sei una mamma forte, dice che ha nei tuoi confronti una ammirazione di fortezza, dice che hai dovuto tu tirare la barca, quando invece dovevi essere tu, dopo la sua dipartita, dovevi essere tu a essere tirata, tu, come se tu avessi tirato fuori una potenza di un guerriero impressionante, guarda mia madre, lo sto vedendo, mi fa guarda, guarda mia madre, mi dice, mi dice che sei stata brava, ma no, ma fammi un esempio, dice che, sì, mi vado ad odorare dei vestiti che non ho lavato, e riposto in una busta, sì, ok, dice che sei stata brava, nel gestire, lo so che sto dicendo una cosa pesante, ma lo devo dire, nel gestire il funerale, mo, ci cose, no, dice, io voglio vedere, io voglio sistemare, come se tu avessi detto, no, io devo vedere, io devo sistemare, io devo rendermi conto, io devo stare vicino, fino all'ultimo momento, fino a quando chiudono, mamma forte, mamma forte, mi dice, mamma forte, che cosa pazzesca Nicoletta, dice che ha visto tutta sta forza che hai tirato fuori, e poi dice, e poi sei crollata, e poi sei crollata, ma non sei mai andata? che cosa particolare, non sei mai andata sottoterra, sei sempre rimasta sulla terra, è come se tu avessi piantato a mio nome dei fiori, non so Nicoletta, dice come se lei avesse piantato dei fiori, degli arbusti, qualcosa a mio nome, Nicoletta, ora non so se hai piantato qualcosa per lui, perché dice che a te i fiori recisi, i fiori recisi non gli piacciono, e neanche a lui, come se tu avessi piantato dei fiori per lui, io non so se questo ha un senso per te Nicoletta, ma me lo sta proprio dicendo, e poi, continuo a dire, è stato un piano di noso, può essere assurdo, ma è così, c'erano più di 150 amici, ok, senti Nicoletta, mi dice, l'ultima cosa, l'ultima cosa, mi dice di dirti che sei stata tanto brava, io lo devo dire, a tirare su la famiglia, come se tutto è di peso da te, continuo a dire, guarda quanto è stata brava, nel tirare su la famiglia, e lo dice dal giorno del trapasso suo in avanti, capisci Nicoletta cosa sta dicendo? L'ultima cosa, Nicoletta guardami, guardami, devo scrivere, vabbè, io ho disegnato da schifo, ho regalato una piantina dopo, a un anno della sua dipartita, ah che buoneda, ecco le piantine, ecco le piantine, Nicoletta, ti prego, ti prego, guarda, guarda, io sono te, tu sei me, e questo qui, è un gabbiano, lo so che l'ho disegnato da schifo, ti chiedo perdono, lui mi ha detto, disegna un gabbiano, disegnalo, Nicoletta, lui ti dice, io sono te, tu sei me, dice che fra voi c'è questo legame, di identità, ma una cosa potente, ricordami, ricordati i gabbiani, ricordati i gabbiani, ma c'è, sto sudando, dice, quando vedi un gabbiano volare, sono io, sono io, mamma mia, ok, Nicoletta, prendi questo amore, virgola, due minuti, e poi ho finito, il messaggio di questo ragazzo a tutti, ti prego, parla dei gabbiani, oddio, ok, messaggio per tutti gli amici, spero che questa mamma, sì sì, messaggio per tutti gli amici, in diretta, da parte di questo giovane, dice, perché io ho detto, sono un gabbiano, perché io ho detto, sono un gabbiano, e non un altro volatile, lui amava il mare, lo so, mi dice di dirvi, per un unico motivo, mi dice, io sono gabbiano, perché non sono imprigionabile, avete mai visto un gabbiano in gabbia? non si può imprigionare, lo dico, lo dico, non si può imprigionare un gabbiano, a causa dell'estensione delle sue ali, per questo motivo, uno dei pochi e rari animali volatili, non ingabbiabili, è il gabbiano, ecco perché io auguro a tutti voi, di trasformarvi in un gabbiano, non permettete a niente e a nessuno, di mettervi in gabbia, nella gabbia mentale, nella gabbia umana, nella gabbia spirituale, nacqui gabbiano, sono gabbiano, il mio augurio è per voi, siate gabbiani, liberi. Ok, oh madonna, ho sudato, bene, Nicoletta, prendi l'amore di questo, di questo tuo figlio, grande, 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 grazie per il messaggio, che hai dato a tutti, lo chiudo, amici, vi ringrazio, e mi spiace che il tempo sia stato breve, volato veloce, ringrazio infinitamente, Cate e Mirella, per avermi dato dei minuti in più, ringrazio infinitamente tutti, ci vediamo alla prossima diretta, un bacio, e un abbraccio, grazie Katia, grazie Mirella.